Namaste, hola a tutte, benvenute e bentornate in Vamos a Yoga Academy. Benvenuti a Chakras Road, un percorso attraverso i nostri centri energetici o chakra. Questa frase di Anodea Judith, che è una delle rappresentanti maggiori di informazione di chakra e lo yoga, mi piace tantissimo e vi la volevo condividere. Il corpo è il veicolo, la coscienza l'autista, lo yoga è il percorso e i chakra sono la mappa. In questo percorso andremo a imparare le funzioni e caratteristiche di ogni chakra e affronteremo diverse pratiche per equilibrare meglio queste energie. Allora, prima di parlare del chakra, bisognerebbe capire un attimino prima come è composto il nostro corpo, ok? In modo che abbiamo, diciamo, una visuale un po' più grande. Quello che sto per raccontarti non è che me lo sono inventata io, è stato proprio, è studiato scientificamente da diverse persone allo largo degli anni. Questo perché i chakra sono nati come una risposta alle domande poste tantissimi miliardi di anni fa dagli esseri umani che in quel momento non conoscevano la medicina o non conoscevano tante cose. Quindi il modo, il linguaggio per loro tradurre tantissime informazioni è stato i chakra. Questo perché? Allora, noi conosciamo l'universo e il nostro corpo attraverso i cinque sensi. Questo a volte può essere un po' penalizzante perché essendoci scollegati un po' dell'informazione del nostro cuore, del nostro interiore, da quella energia profonda che abbiamo ognuno di noi, ci siamo diventati esseri troppo razionali. Per cui ciò che non potevo toccare non esisteva, ma in realtà se noi pensiamo a un pensiero, tutti sappiamo che pensiamo, i pensieri esistono eppur non possiamo toccarli. Quindi in base a questo andiamo ad analizzare che ci sono diverse leggi nel mondo come la legge dell'universo, la legge della gravità, la legge dell'entropia e c'è anche la legge del sette o leggi delle ottave. Questa legge ci parla dell'importanza del sette nell'universo, il numero proprio sette, perché sette notte musicali, sette giorni della settimana, sette pianete principali, sette peccati capitali, cioè tanti cose legate al numero sette, anche i chakra principali sono sette. Ovviamente dipende dalla linea di pensiero della scuola, ti diranno che sono più di sette i principali, alcune sei, alcune cinque, alcune otto, ma per lo yoga noi abbiamo sette chakra, così come abbiamo sette corpi. Allora io ti numererò i corpi velocemente facendo la premessa che noi ci centreremo soprattutto in uno di questi sette corpi perché è quello legato ai chakra. Quindi noi abbiamo il corpo fisico, il corpo vitale, il corpo astrale che è quello dove andremo a lavorare in questo percorso, che è il corpo che è strettamente correlato con i nostri processi emotivi, motivo per il quale quando abbiamo delle situazioni emotive che possano causare danno al corpo si considerano malattie psicosomatiche perché vanno a colpire proprio questo corpo astrale. In questo corpo astrale si trovano i chakra e si trovano diciamo i poteri che contengono i chakra. Allora questo non è fantascienza, persone che si dedicano tantissimi anni, che sono devote alla credenza dello yoga e sviluppano maggiore potere energetico con questi centri energetici che possono essere visti come telepatia, la chiarovegenza, una intuizione molto forte, la trasformazione di oggetti. Di questo appunto se volete approfondire di più io vi consiglio il libro di Yogananda, Autobiografia di uno Joji. È veramente bello e parla tantissimo di persone, maestri, grandi maestri in India che dopo aver praticato lo yoga per diversi anni hanno sviluppato diciamo i poteri jodici. abbiamo il corpo mentale, il corpo causale, il corpo buddico e il corpo armico. Quando vuoi puoi mettermi pausa e qui ti ho lasciato scritto un po' più diciamo una descrizione piccolina di ogni corpo in modo che se questa informazione ti interessa ce l'hai, però noi ci stiamo concentrando proprio sul corpo astrale. Quindi cosa sono i chakra? La parola chakra in sanscrito significa ruota, cerchio o disco. È utilizzato per rappresentare i nostri centri energetici. Hanno il compito di ricevere e distribuire l'energia. Principalmente ci sono sette e ognuno di loro ha caratteristiche specifiche associato a determinate emozioni, sensazioni, funzionalità mentali e spirituali. Noi andremo a prendere chakra per chakra e a lavorarlo con lo yoga. Quindi non ti preoccupare se qua ti sto dando troppa informazione. Questa è una cosa che mi viene la parola in spagnola. Sbisceremo, cioè desmenuzeremo, lo faremo proprio pian pianino. Quindi in base alla posizione di ogni chakra, perché loro sono distribuite lungo la colonna, di questo ti spiego meglio con un'altra slide, ogni chakra occupa nel nostro corpo, ogni chakra il nostro corpo è associato a una specifica, a una specifica ghiandola endocrina. Ovviamente stiamo parlando di un corpo energetico, no? Di una, un centro energetico, non un corpo energetico, scusami. Quando l'energia di questo chakra è attiva, ojo, non vuol dire che noi abbiamo un chakra che non è attivo perché non è possibile. Se i chakra non fossero attivi noi non saremo vivi, non saremo qui e ora in questa incarnazione. Quindi loro sono sempre attivi. Ma in base a come si sta muovendo l'energia, questi centri energetici possono stare aumentando l'energia, generando potere alla nostra vita, o sottraendolo perché sta andando all'incontrario, tutto sta andando in un modo diverso. Quindi, devuto a traumi, situazioni fisiche, stress, emozionali, diverse situazioni, l'energia può essere molto carente e quindi un chakra può essere o in eccesso o in carenza dell'energia per l'attivazione giusta. Questo determina uno squilibrio che può manifestarsi con disturbi fisici ed emozionali, come ti dicevo prima. Tutto quello che viene chiamato somatizzazioni fisiche derivano da un esquilibrio nel corpo astrale, cioè anche nei nostri chakra. Quindi è possibile che noi, conoscendo il funzionamento e l'esquilibrio energetico che si possano derivare in ogni chakra, possiamo ristabilire questa energia. Per essere in grado di farlo, andremo a lavorare molto con il corpo pranico, con il corpo energetico. Quindi, a volte pensiamo che tutto ciò che facciamo a livello di respirazione o che facciamo a livello di yoga sia legato solamente alle posizioni. Le posizioni vanno a stimolare, sì, la parte fisica del corpo, però soprattutto quella collegata alla parte energetica per la nostra consapevolezza nel respirare. Ok? Allora, nella nostra colonna vertebrale, qui che ti spiego un attimino come si creano questi chakra, c'è un'energia principale, un canale energetico principale che si chiama shushuma, che nel disegno che vi ho creato vedete che questa linea arancione che attraversa tutto il centro del corpo fino a uscire dalla fontanella della testa. Questi sette cerchi tondi che vedete colorati di rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, viola e bianco, sono i chakra. Questa energia, questo canale energetico centrale shushuma è il nadi, cioè canale energetico in sanscrito principale. Si trova alla base della colonna vertebrale e termina nella sommità del capo. ci sono altre due nadi principali, ida e pindala. Quindi queste due nadi nascono da il primo chakra muladhara, che è alla base, alla radice, e salgono ma non dritti come la shushuma, ma servono un percorso a spirale. Dove si incontrano queste due energie si crea un chakra, si trova uno dei chakra principali. Questo perché? Perché ida rappresenta l'energia femminile, l'energia lunare, passiva, introversa, l'energia dei shakti, dei donna. Cioè, come ho detto e ripeterò fino all'infinito, noi tutti gli esseri umani abbiamo, che siamo donne, che siamo maschi, un'energia femminile, un'energia maschile. È qui dove possiamo, diciamo, vedere dove che si trova questa energia. Questa energia di ida femminile è legata alla narice sinistra nello yoga e pindala è legato all'energia maschile. Quindi, l'energia solare, l'energia attiva, l'energia estroversa di shiva. Quindi, la unione di questi due rappresentano anche la nostra polarità, la polarità delle due, diciamo, energie dei due lati che entrano nel nostro corpo a rappresentare tutto ciò che noi siamo. Ed è lì che si trovano i centri energetici chiamati chakra. Allora, qui vi ho lasciato una immagine con la rappresentazione di dove si trovano tutti i seti chakra. Noi inizieremo il percorso con Muladhara, che è alla base e alla radice. Io da sempre vi dico, qua all'interno della scuola, che se la base non è stabile, non c'è palazzo che rega. Quindi, prima di andare a, non lo so, lavorare con il chakra del cuore, torno un attimino, controllo come la base, come Muladhara, come il primo chakra. Questo non vuol dire che se tu hai una frizione al cuore, una difficoltà con i polmoni, una difficoltà con le mani, non puoi andare a lavorare il quarto chakra. Ovviamente puoi, però è preferibile poter andare a, piano piano, passo dopo passo, dalla base, fino ad arrivare al settimo chakra. Quindi, il primo è Muladhara, il secondo è Svadhisthana, terzo Manipura, quarto Nahata, quinto Vishuddha, sesto Anya e settimo Sahasrara. Ognuno è rappresentato da un Jantra, cioè da un simbolo in particolare. e ogni simbolo ha, diciamo, una quantità di pettali, perché alla fine l'ultimo chakra, Sahasrara rappresenta il petalo di mille fiori, il fiore di mille pettali. Quindi, come andremo noi a lavorare con yoga e chakra? Lo scopo della pratica dello yoga è quello di resvegliare l'energia che risiede alla base della colonna vertebrale, dove è situato il primo chakra, e di farla salire lungo il percorso energetico, attraversando tutti i sette chakra, quindi svegliando l'energia kundalini, che è quella che ha la base della colonna vertebrale, e questo mi porterà ad avere i chakra illuminati con questa energia, generando così un equilibrio energetico che riparando, meglio, riparando uno squilibrio energetico che possa presentarsi in determinato chakra, in determinato periodo della nostra vita. Noi andremo a fare il lunedì la pratica yang, il mercoledì la pratica yin, il venerdì la pratica di pilates legata a quel chakra, quando sarà possibile, alcuni chakra sono molto più profondi, non tanto fisici, e tutte le domeniche con le pratiche che io vi sto pubblicando, per la durata di questo percorso, vi pubblicherò una meditazione da fare per integrare. Questo perché la respirazione la lavoreremo, sia nella parte yang che nella parte yin, ma la meditazione è fondamentale per aumentare il controllo di prana, di energia in quella zona. Io spero di essere stata chiara e concisa in questa introduzione e ti chiedo se sei pronta per cominciare questo viaggio. Ci vediamo stasera alle 18.15 per iniziare. Namaste e grazie.